Mondiale Juniors 470, parliamo di vele, in particolare il gioco di vele di un 470, gioco di vele Zauli con Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò. Ragazzi, l'evoluzione tecnica delle vele del 470, il motore della barca di questa classe olimpica, siamo arrivati a un livello diciamo così tecnologico di evoluzione particolarmente evoluto, come partecipa l'equipaggio a questa evoluzione e in particolare quali sono un po' gli highlights, cioè i titoli di questo gioco di vele Zauli, in particolare che mi sembra di vedere anche a questo Mondiale Juniors va per la maggiore. Giulio Zauli ha appena vinto il Mondiale di Arus con i francesi che sono ormai molti anni che collaborano con la veleria Zauli, sicuramente Zauli dopo l'Olimpiade del Rio 2016 che ha vinto la medaglia d'oro e da lì è stato un continuo di successi. La forza di Zauli è sicuramente Andrea Mannini che collabora con noi atleti sul campo, è anche oltre a velaio anche un allenatore, quindi sa perfettamente cosa serve a un atleta in mare e anche l'evoluzione del 470. Il più grande cambiamento degli ultimi anni è il pompaggio libero, quindi a questo sono state anche adeguate le vele, soprattutto magari l'ospite, essere uno spi facile e molto prestante, perché comunque quando si fa il pompaggio non bisogna stare molto a pensare alla vela, ma la vela deve andare da sola e bisogna pensare più a farla camminare forte la barca e poi sicuramente il lavoro che fa Andrea con tutti gli atleti durante l'inverno facciamo molti raduni a Sanremo dove facciamo test delle vele, ci confrontiamo con i migliori equipaggi al mondo e questo è un lavoro che ormai noi facciamo da 4 anni e ci ha fatto crescere tantissimo. Tra l'altro Andrea Mannini, ricordiamolo, un italiano che è arrivato fino al vertice della squadra olimpica inglese come responsabile delle vele in questo quadriennio verso Tokyo 2020, quindi anche con lui poi parleremo, avremo un'intervista, ve la anticipiamo, insomma, prossimamente addirittura proprio da Enoshima. Giacomo, abbiamo detto il motore, parliamo adesso della randa, diciamo un po' più il tuo regno in qualche modo come timoniere, abbiamo sentito da Giulio il fatto che le vele si sono anche adeguate alla tecnica del pompaggio, però randa, randa del 470, Zauli, ultimo grido, insomma, l'ultima tecnologia, raccontacela un po', descrivicela. Allora, in questo momento noi stiamo usando la randa, si chiama R16 Gold, che è la stessa randa con cui il Croato ha vinto le Olimpiadi di Rio nel 2016 e diciamo la forza di Zauli è quella appunto del continuo sviluppo. Infatti, se uno va a vedere, ci sono tantissimi modelli di randa, ognuna performante al 100% in qualsiasi condizione del vento, delle onde, quindi abbiamo tantissima scelta. Devo dire che noi in particolare negli ultimi due anni abbiamo usato tantissimi modelli, ora in questo momento stiamo usando la R16 Gold, ma da gennaio del 2017 abbiamo cambiato cinque modelli di rande. Quindi, la bellezza di queste vere Zauli è che, nonostante uno cambia tanto, riesce sempre ad adeguarsi perché c'è una semplicità nel regolarle che appunto ti permette di stare molto a testa alta quando uno è regata. Quindi, la bellezza è proprio appunto quella di trimmarla al punto giusto e poi cominciare a guardarsi un po' in giro. Facciamo qualche esempio, abbiamo detto R16 Gold, ne avete provate 4-5 già in questo inizio di quadriennio. Facciamo qualche esempio per esempio di come è cambiata questa, quale può essere il piccolo particolare anche per chi ci segue da casa, è curioso insomma di capire, perché magari sono modifiche piccole, quasi invisibili a occhio nudo. Sì, noi le due rande che abbiamo usato in questo ultimo periodo sono la R16 Gold e la R15 DU, ci siamo trovati molto bene al mondiale l'anno scorso di Salonicco con vento medio-leggero con la R15 DU. Abbiamo fatto durante l'inverno un piccolo cambiamento, abbiamo provato una R15 leggermente modificata con un po' meno di giro di inferitura. Abbiamo fatto questa prova giusto per levarci un dubbio sul lavoro meccanico degli alberi. Cosa significa un po' meno di giro di inferitura? Più corta? Sappiamo che, detto in due parole, più una randa a giro d'albero più è una randa grassa e meno giro d'albero è una randa un po' più magra. Anche da qui viene cambiata la posizione del draft, ovvero il grasso posizionato prua poppa. Abbiamo provato questa nuova randa fatta da noi con l'aiuto di Andrè e di Gabriel, il nostro allenatore, a Miami. Ora ce l'abbiamo come arma segreta, stiamo aspettando il posto migliore per scendere in acqua con questa vela. Dopo Miami ci siamo specializzati su questa R16 Gold, che è quella che ormai stanno usando più o meno tutti, perché è una randa perfetta in qualsiasi condizione. Ci sono queste strisce orizzontali blu, che sono quelle che di solito appunto si usano anche sulle barche d'altura proprio per vedere la misurazione del grasso, a volte anche con i droni, no? A cosa servono? Servono a quello? Perché non tutte le vele ce l'hanno. Sì, diciamo in 4,70 è raro vederle. Io sono stato, tra virgolette, abituato dal nostro allenatore a usarle sin dall'inizio e è un aiuto che ho nel regolarla a mare e non solo, anche perché con queste linee di forma se vengono posizionate sempre allo stesso punto, su ogni randa che uno ha, quando appunto è nuova riusciamo a fargli delle foto per vedere appunto se ci sono differenze tra una randa e un'altra. Sui fiocchi è un po' più difficile perché anche la posizione della macchinetta in barca, la macchinetta fotografica in barca è più complicato, però ci stiamo lavorando. Allora Giulio, dicevo il tuo regno è la prua, a questo punto invece vela di prua, il fiocco. Anche il fiocco, facciamo un discorso di come può essere cambiato, quanto conta, quanto è importante, le ultime modifiche. Certo, anche noi col fiocco abbiamo due fiocchi, sempre rigorosamente zauli, di cui uno è prettamente per il vento forte e uno per il vento leggero. Infatti uno è un R16 Gold, stesso modello della randa e un altro un R17. In base alle condizioni della regata decidiamo che fiocco usare per il campionato. Comunque la regolazione del fiocco è un po' più semplice perché lo possiamo cambiare in qualsiasi momento, anche in navigazione, quindi abbiamo il carrello del fiocco, lo spostiamo avanti e indietro, lo possiamo portare interno, esterno, da cammi delle marce e poi il canne in gamma che è lì pronto per essere cazzato. Quindi la regolazione del fiocco viene cambiata costantemente anche all'interno di una prova in base ai cambiamenti del vento è anche una delle prime cose che si fa. Spesso si vede tra una prova e l'altra o prima di una partenza la barca scuffiata vicino al gommone dell'allenatore. Cosa succede in quei momenti? Quando aumenta o diminuisce il vento noi usiamo anche in cima, in penna, ci sta uno stroppetto che serve per regolare l'altezza del fiocco e in base alle condizioni noi teniamo sempre l'altezza ottimale del fiocco ossia deve essere proprio preciso sulla coperta, non deve essere né troppo alto sennò quando lo cazzi rischi di chiuderlo troppo né troppo basso sennò è difficile chiuderlo e arrivare alla giusta regolazione. Dello spin che da pompare ne abbiamo parlato, in conclusione un'ultima domanda vi lasciamo andare perché dovete stazzare per la medal. Il feeling, perché quando si raggiunge il livello come il vostro, veramente sono i particolari che fanno la differenza. Le vele, un gioco di vele, è ben più che un particolare. Quanto conta anche il feeling, il sentire, proprio il rapporto tra voi e il gioco di vele? Questa è la vela giusta, mi sento bene quindi posso pensare ad altre cose della regata e quanto invece, cioè come scatta insomma, è proprio quasi come un rapporto tra persone. Diciamo che è importante la prima scintilla, nel senso appena la vela la tiri su i primi bordi, ovviamente dopo che la vela si è stesa, comunque ha preso forma e sono subito indicativi anche a livello un po' psicologico. Nel senso, se ti senti con il giusto feeling con la vela, sei sicuro che sei dominante in qualsiasi condizione, sia tattica che divento appunto, e quindi è un'altra sensazione, nel senso sei appunto più portato a guardarti in giro, a vedere magari dove sono le raffiche e a concentrarti più sulla strategia. Confermi Giulio? Sì sì, assolutamente, un'altra cosa fondamentale è che comunque ogni vela ha il suo albero, la sua barca, un'altra cosa che Andrea è stato molto bravo è che ha ottimizzato le sue vele con un tipo di albero, un tipo di barca, un tipo di deriva e questo è riuscito a farlo perché comunque sta in mare quanto noi se non di più.